Di notte mi aggiro sui tetti e tra i vicoli, in cerca di giustizia, cieca giustizia, il diavolo custode. Avrevo 12 anni quando persi la vista, ma ricevetti qualcosa in cambio. I quattro sensi che mi restavano si accuirono in modo soprannaturale. Sentivo un bespiglio a un isolato di distanza, ma cosa più straordinaria, sviluppai una specie di senso radar. Presto il mondo conoscerà la verità. Non ci sono prove che Devil esista davvero. Solo quell'uomo può cambiare le cose. Che cosa vuoi? Giustizia! Matt Marlott. Piacere di conoscerti. Come hai detto che ti chiami? Non te l'ho detto. Non vuoi proprio dirmelo, eh? Mi chiamo Elettra. Vado, è arrivata la mia guardia del corpo. La tua guardia del corpo? In una città dominata dalla paura. Tintin non uccide solo te, ma tutta la tua famiglia. Un uomo accetterà la sua più grande sfida. Chiama Bullseye. Devil è mio. Era proprio necessario? Necessario? No. Divertente. E così nascerà un nuovo eroe. Chiama il diavolo quanto gli ha trovato? Come si uccide un uomo senza paura? Mettendogli la paura in corpo. New York non è sicuro, stanno qui. Devo andare, il lavoro mi aspetta. Bene. Come faccio a trovarti? Ti troverò io. Dare, devono. Serve qualcos'altro? Sì. Voglio un costume.